Ciao creatura, io sono ecco a te splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai e SMA. Eccoci di nuovo con il nostro amatissimo volantino deluxe Lidl. Questo è valido diciamo dal 27.11 al 3.12 e ci sono un sacco, un sacco, un sacco di novità deluxe. Ho visto da un video super super rilassante di Serena, l'isola dei sussurri o come dico io in modo molto amichevole l'isola dei sussulti perché mi fa venire i privitini, no? E quindi sussulto. Tranquilla creatura lo sa già. Ho visto un suo video dove guardavano un catalogo, un volantino e indicava con la penna. Ho trovato molto molto triggeroso e quindi lo faccio anche io questa sera perché mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta tanto la sua idea. Niente di che dirai, ma vedrai, vedrai. È triggeroso. Allora, c'è se devi scaricare l'app nel telefono o se l'hai già avrai notato che c'è un buono sconto di 5 euro e questo buono sconto va utilizzato con una spesa minima di 40 euro e io l'ho usato e poi ne ho ricevuto subito dopo un altro. 5 euro di sconto sono tanti e approfittane, cioè usalo se ovviamente fai una spesa di almeno 40 euro, ma compri due robe e ci sei già arrivata, ecco. Allora, qui la troviamo in prima pagina i gamberi argentini a 4 euro e 99, i macron sal cioccolato 2 euro e 99, i tortelloni con fontine spinaci o sacchettini al tartufo 1 euro e 29 euro, la salsa al tartufo 2 euro e 79, sai già cosa ne penso del tartufo? Come al solito sta storta perché non vedo cosa sta inquadrando, ma non importa, dai proseguiamo. lunette agli scampi e camperetti o girasoli al pesce a spada 1 euro e 39, c'erano anche l'anno scorso se non sbaglio battuto di olive e leccino 1 euro e 39, bottarga di muggine intera, che buono, 75 euro al chilo salmone norvegese affumicato al whisky 3 euro e 99, approvato da gambero rosso col tizio che ride dopo ti dico una cosa, tagliatelle all'uovo con tartufo 1 euro e 49, questo è un uovo, pesto al tonno con olive nere e peperoncino 1 euro e 99, fa voglia eh, questo fa voglia, poi abbiamo burro al tartufo 2 euro e 49, non mi fa voglia il tartufo non so se anche tu creatura, ma io da piccola fino anche adesso in realtà, però adesso non lo faccio e modificavo le facce vabbè, mi viene voglia adesso di modificargli la faccia, però non lo farò, un giorno comprerò una rivista e modificheremo tutte le facce se sei contenta che attura, lasciami dei like se ti piace la mia idea prosciutto di parma top, 18 mesi, top 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 4 euro e 69, formaggio erborinato di capra 3 euro e 79, ragù di fossuna di razza piemontese di razza, 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 razza piemontese, razza 2 euro e 49, ragù di cinghiale 2 euro e 49, domino in olio con ciughe e capperi o al tartufo ovviamente, 2 euro e 49, tirami su con savoiardi con uova da galline allevate a terra, 0 99, panettone e pan di neve il morbido impasto del panettone senza uvetta e senza canditi in una ricetta di irresistibile sofficità e fragranza, che buono, 5 euro e 99 praticamente è un pandoro con l'impasto del panettone, panettone panettone dark, fargito e ricoperto di cioccolato qui dice, lasciati trasportare dal gusto intenso del cioccolato fondente, 5 euro e 99 questo è un uovo, in realtà io questo non me lo ricordo, dell'anno scorso uova di lumbo, di lumbo, di lumbo, 2 euro e 79, succo all'astice 2 euro e 49 il banco sul gelato dice che è una novità, ed è anche una novità il salmone norvecese affumicato con pepe e arancia a 3 euro e 99 lumache alla bourguignon, novità, 9 euro e 99 cuori di merlusso a 2 euro e 99 buono, come cuori di merlusso, in che senso cuori? non come in senso letterale con patate, funghi trivolati e tartufo, vabbè, tartufo d'estate mazzancolle tropicali con limone già mangiate, già prese, già mangiate e già i comprate 2 euro e 49 calcola che le mazzancolle costano tanto, poi le compri le compri da fare, no? devi starli a pulirle, devi starli, dopo la testa la togli devi starli a cucinarle con 2 euro e 49 e facciamo 2 euro e 50 hai 100 grammi netti e già cucincia pronto, cioè è un prezzo buonissimo infatti le ho comprate, sono veramente buone la scorsa settimana c'erano quelle con l'erba cipollina non le ho prese, ma appena ho visto queste al limone ho detto c'è anche il pezzettino di limone buone, queste saranno andate anche a ruba io te le vorrei consigliare, ma non so se ne trovi ancora in realtà nella provincia non c'erano più, nel mio paese c'erano ancora quindi dipende, ecco però se ti piacciono ovviamente le mazzancolle mazzancolle, queste te le consiglio si possono ho visto che scadono anche tipo il 6 gennaio, una cosa del genere quindi potresti prenderle, metterle in frigo e usarle come antipasto per le feste, ecco dicissimo sono 100 grammi, si però se tu fai non lo so delle tartine non so, dei crostini, ecco ne metti una sopra ogni crostino ci spalmi qualcosa e poi ci metti una di queste ogni crostino, saranno 20 dentro vengono 20 crostini, ecco lardo stagionato 2,19€ spec al vino primitivo 1,99€ questo ce lo contrassegna come novità ravioli con ricotta pecorino e miele 1,59€ 1,59€ 1,59€ 1,59€ 1,59€ che l'ho proprio vista l'ultima volta che sono andato passate al tartufo ecco finiamo tutto col tartufo 2,49€ una novità stelle di natale con parmigiano reggiano e dovina un po' tartufo 1,79€ che belle però crespelle con tartufo 2,99€ burrata di uvola al tartufo 1,79€ salami con tartufo 1,79€ salami con tartufo o whisky 1,69€ salsa tartufata 2,99€ condimento a base di olio d'oliva aromatizzato al tartufo bianco 3,49€ crema con aceto balsamico di modena IGP con tartufo 1,49€ tutta sta pagina io non posso mangiarla tranne questo salami con whisky che però ho visto non mi facevano voglia al supermercato quindi niente hai visto quante cose hai visto ci sono altre cose qua siamo sul dolce allora qui c'è mousse al formaggio fresco no questo non è dolce scherzavo ho sbagliato qui c'è dolce qui no mousse al formaggio fresco amborgini e tartufo pomodoro e cipolle o con gamberi ecco tu puoi prendere per esempio questa mousse ai gamberetti la spalmi sui crostini il pane lo puoi prendere anche a Lidl la baguette la tagli sottile poi fai dei crostini magari la passi un po' al forno così diventa bella croccantina ci spalmi da mousse al formaggio fresco con gamberi sopra ogni fettina e ci schiaffi sopra ogni schiaffi più bello che è adagi sopra ogni fettina di pane una mazzancolla hai fatto venti venti crostini alla fine hai fatto un antipastino un aperitivo quello che ti pare e con poco con poco si riesce a fare tanto basta avere un po' di creatività un funghi porcini in olio d'oliva una novità a 2,99 euro poi c'è pestola genovese con basilico genovese top e olio extravergine di oliva 1,99 euro già ti do anche le idee per utilizzare le cose dell'idre parliamone lenticchie di altamura IGP 1,49 euro non mi piacciono le lenticchie mini volavan volavan ti basta sfoglia 1,49 euro dice 80 grammi quante sono dentro non lo dice secondo me sono 12 e questi li puoi fare benissimo anche a casa però forse ti costa meno comprarli già fatti e la pasta sfoglia dell'idre ha aumentato costava 1,99 e adesso costa di più quindi non conviene perchè per farla ci vogliono due perchè devi fare quello tondo normale la base e poi devi metterne un'altra sopra fatta a ciambella diciamo perchè così poi si gonfia e c'è lo strato qua del volavan e quindi con una pasta sfoglia secondo me non ci riesci quindi conviene prenderle già fatte poi patatine alla barbabietola nuovo però perchè l'anno scorso e credo anche quest'anno ci sono le chips quelle di verdura di verdure e dentro c'era anche la barbabietola e adesso si vede che era piaciuto molto come snack e hanno fatto solo proprio pietola buone mi sa che queste se le trovo le prendo 1,79 euro poi diciamocela tutta dicevo diciamocela tutta hanno anche questo colore molto fancy elegante no sofisticato torrone morbido con frutti rossi 1,99 euro senti un rumore strano fuori piove dessert al cioccolato al cioccolato fondente o al latte fondente prenderei latte fondente 2,19 euro gelati in bicchiere di vetro anche questi perchè poi dopo ti puoi tenere il bicchiere come si faceva una volta con la nutella 2,79 euro riusciamo a vedere i gusti questa è una novità c'è scritto in micro e anche non molto un po' pixel diciamo allora dice al pistacchio di sicilia e al cannolo credo siciliano una cosa del genere non è che mi ispirano tanto questi gusti tortini al cioccolato fondente con cuore morbido al caramello o alle nocciole caramello cosa prendiamo 2,29 euro io prenderei quelle al caramello nel banco su gelati poi questi qua sicuramente sono quelli che si mettono in forno e dopo lo mangi caldo buonissimo yogurt alla nocciola con latte della valtellina 0,89 125 grammi buono c'è anduiotti con nocciola del Piemonte icp novità 0,19 novità buoni poi anacardi o pistacchi ricoperti madonna 0,99 però io non rovinerei i pistacchi sono perfetti così come sono novità il tiramisù a 3,49 euro il tiramisù è sempre gradito credo da tutti anche se c'è il caffè dessert al limone o al cioccolato a 2,99 euro questi ci sono sempre stati io sbaglio c'è anche non deluxe il tiramisù si anche non deluxe tessera al limone e amaretti o al tiramisù 2,19 euro panettone con crema al mascarpone frutti di bosco scusa 6,99 euro buono soufflé al cioccolato con ripieno al pistacchio ecco questo lo prendo 2,49 in alcuni ristoranti secondo me ce li hanno tipo deluxe già pronti poi te lo schiaffano in forno torta da panna wow allora c'è giocomousse torte poi panna cotta i pisca cioè lo vedo dal disegno stracciatella ehm kirsch non so cos'è 4,49 euro e basta con le cose deluxe però però hanno messo i calendari dell'avvento in offerta da 1,19 euro a 0,89 diamo una sbirciatina qua ci fa qualcosa ci fa voglia qualcosa e questi qua sono carini secondo me ehm in teoria li si si possono appendere all'albero come decorazioni poi li puoi anche mangiare qui abbiamo dei cesti quando non sai che cosa regalare il cibo è sempre ben accetto e con 13 euro trovi questi questi cesti natalizi dove c'è un po' di tutto la bottiglia di vino il il pandoro il panettone dei biscotti dei cioccolatini vari caramelle insomma dai se uno non sa cosa regalare va in una famiglia da questo ed è a posto secondo me eccolo qua il tuo regalo di natale è un buono sconto da 5 euro dal 27 novembre fino al 24 ah fino al 24 e lì c'era scritto fino al 3 invece è dal 27 novembre fino al 24 dicembre la tua spesa sarà ancora più conveniente qua dice ah potrei usare questo ritaglia il buono sconto presenta il buono sconto alla casa risparmio ogni settimana per 4 settimane in ogni garantino un nuovo buono sconto ahhh ok e no io ho usato questo invece attiva il buono sconto nell'app attiva il buono sconto nell'app scansiona la tua app alla casa risparmi ancora di più quando vuoi tu per 4 settimane il buono sconto disponibile nella tua app leader plus verifica termini e condizioni in app special minimo 40 euro e io che bello come in america quindi vuoi dirmi che io potrei anche usare questa perchè l'app è mia ma il buono sconto di però prendetevi i volantini chi non ha l'app prendetevi i volantini Lidl perchè ci sono mettono i coupon come in america tipo malati di risparmio mi guardavo sempre la serie e e avevano tutti sti coupon io se esistessero in italia io lo farei è che non esistono qua nei negozi qua noi non ci sono volantini con coupon e poi ci sono le offerte Lidl Plus che sono attivabili con la app se non sai usare l'app ti faccio un tutorial te lo faccio un giorno un video così ti spiego come perchè io risparmio un po' di soldi e mi son presa il kebab di pollo che io non me l'ero mai presa in generale neanche il kebab e l'ho messo nella piadina 2,29 euro era molto buono ho preso anche questo parmigiano reggiano 1,19 euro e poi posta di queste cose non ho preso altro però tu guardi nella tua nella tua app guardi che offerte hai perchè a volte trovi una cosa per esempio il kebab di pollo potrebbe essere già in offerta in più se tu attivi il coupon dall'app ti aggiunge un ulteriore sconto a volte succede io a me capita che ho che ci sono delle robe già in offerta in più ho anche il coupon e quindi le pago ancora meno mi sono ricomprata le alette di pollo marinate quelle classiche che sono comunque piccanti ho anche le decorazioni per la casa per l'albero le palline natalizie anche se ho visto una pubblicità dell'Eurospin che qua non c'è quindi vabbè dovevano le palline tipo di topolino nel senso che avevano le orecchie tonde erano tre palline diciamo molto molto estetica candela profumata io ho voglia di una candela profumata perchè quella che avevo Yankee Candle regalata mi da fra 4.000 anni fa l'ho finita cos'è questo piccione? non so decorazioni natalizie alette e c'è un piccione un pinguino forse forse un pinguino tenda luminosa bella questo questo è bella sai metterci una bella tenda in trasparenza questa estetica tutto l'anno questi sono belli mi piacciono noi ne abbiamo ricevuto uno in regalo e da Amazon penso fosse stato acquistato e praticamente se è tipo il mio ci mette l'acqua ci mette delle gocce di di un aroma e lo accendi cambia colore puoi impostarlo che cambia colore oppure puoi impostarlo fisso e fa questa specie di fumo diciamo umido queste mini goccioline che emanano questa profumazione la profumazione che hai scelto e poi c'è anche il colore quindi è tipo una lampada quello che fa profumo è molto rilassante secondo me e fa anche atmosfera questo tutti su tiktok prendetelo prendetelo poi su di come io l'ho preso non scalda niente e consuma un sacco quindi vabbè non credo tanto in queste mini stufie io onestamente credo di più in una coperta cosa ho visto ma la friggitrice ad aria calda 9 in 1 perchè 9 in 1 perchè 9 in 1 combinazione di friggitrice ad aria calda griglia ed essiccatore no la voglio eh voglio questa per Natale papo Natale ciao papo Natale io vorrei questa per Natale grazie display easy touch e 9 programmi preimpostati regolazione della temperatura da 40 gradi a 200 e 1800 watt a 99 euro no scusami a 99 euro e basta 99 le ho aggiunto io vedo che può fare una marea di cose e dice cuocere a fuoco lento grigliare tostare riscaldare friggere cuocere gratinare arrostire essiccare no essiccare cioè la vita altra è anche un bel regalo se conosci qualcuno a cui piace cucinare un utensile da cucina è sempre cosa gradita secondo me belli questi libro educativo per bambini testi semplici e comprensibili con numerose fotografie illustrazioni 4,99 anche questo puzzle florescente mille pezzi 8,99 mi prenderai ovviamente il gatto non c'è la poiana e quindi mi prenderai il gatto e basta e basta concludiamo questa borsa con attrezzi a 59 euro invece che 89 bella questa va bene dai spero che questo video ti abbia fatto rilassare è venuto lunghissimo ma io avevo tanta voglia di stare con te creatura e ti ringrazio per aver passato questa serata con me e in completo relax e spensieratezza ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura